Sì, questo è il cuccio. E' Fè! Meno male che è il cuccio. Eh, perché là c'è scritto, forse... Quella si vede di più di là. Le posso tavalcare? Tavalcare. Amore, ma tu vuoi fare la foto con il giraffa? Sì, ma... Con il tuo telefono non è. Ma le giraffe che panza hanno? Che? Non ce l'hanno. Come panza? Signore, prego. Imporniamo i giorni dei visitatori che l'ultimo ingresso alla porta 30 anni e alla ultima stessa è questa. Ma no, ma non carica...